L'incidente mortale A seguito dell'impatto l'uomo, un settantenne, è caduto a terra e nonostante gli immediati soccorsi è deceduto sul posto. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa italiana e le agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della Polizia Municipale di Torino che hanno rilevato il sinistro e ricostruito la dinamica, deviati il bus GTT linea 72 e 72 sbarrato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS